bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo specialissimo video io sono xyuder e ragazzi per chi non lo sapesse da pochi minuti è uscito un cambio shop ovvero sia un nuovo bundle anzi due nuovi bundle di skin e di oggetti dedicati a Deadpool sono stati veramente un po' fuori di testa quelli di Epic Games perché ci sono un totale di 5500 V-Bucks da scioppazzare qualora volessimo avere il full set una roba veramente incredibile infatti come vedete se ci spostiamo direttamente sul gameplay che non state vedendo per qualche strano motivo eccolo qua ragazzi e andiamo nel negozio oggetti abbiamo il set di costumi x force che comprende un sacco di skin davvero molto belle con il loro backpack guardate che roba tre skin e tre backpack ma se aspettiamo un attimo che switcha c'è il bundle dell'attrezzatura con deltaplani e picconi per un totale di 2500 V-Bucks intanto io direi che possiamo un attimo sistemarci con questo pacchetto in modo in modo che controlliamo un attimo che cosa abbiamo preso abbiamo la skin psylocke carina carina il suo backpack Shurayuki forgiata mille anni orsono oh la madonna abbiamo la skin domino carina anche questa non esagerata ma carina con il suo backpack che si chiama zainetto di domino una fantasia veramente mostruosa abbiamo la skin cable soldato esperto e maestro della strategia che figa c'ha un hitbox che veramente brutus gli fa un baffo con il il suo mantello il mantello di cable bagato come lo schifo con la banana come vedete adesso ragazzi siamo arrivati che ci manca ancora un botto di roba perché non è fucking possible avere ancora un bundle da 2500 quindi io ho 900 V-Bucks con 900 V-Bucks mi piglio un piccone il pugnale delle probabilità che mi sembra molto carino lo equipaggiamo pure però mi fermo qua mi fermo qua volevo solo farvi vedere lo shop direi che ci ho speso parecchi V-Bucks finiremo purtroppo i giorni di full shop quindi potrebbe essere un video addio allo shop completo ovviamente vi ringrazio comunque per averlo guardato non dimenticate di lasciare un bel like iscrivetevi al canale e a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao 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 ciao